è presto ieri sul canale stavo 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 ristrando la canzone un'altra cosa che il capo 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 che Ok, sembra quello che vuole. Questo è quello che vuole. Ok, sembra quello che vuole. Ok, sembra quello che vuole. Ok, cominciamo. Ho fatto ipera Non mi ha dato una specchia Lo metto all'acqua Lo metto non ho mai provato Però è una via pesante Andiamo qui per la scuola Ho fatto ipera Perfuso 1,2,2,1,3,2,1 4,2,4 4,2,4 Ok per me Sì, è sposto, ah sì sì, Luca tu, il capitano è sposto, il capitano, Sebastiano è sposto. Non l'acqua, ma c'è quello qui dove ci sono, è uguale di macchina. Ecco, ma, del mat, del matine, matine, espo, di tonio 2G. E' un grigio di espo, un grigio. guardi un card guardi 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 oh la fai Martiti Martiti Perdi Partita chiusa ormai ragazzi Partita chiusa Partita chiusa ormai ragazzi Partita chiusa ormai ragazzi Partita chiusa ormai ragazzi Grazie a tutti. 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 ha vinto. ha vinto. no. Нююю. мало. contro. a tutti. miles, c'è ilore. no? c'è le due in questo momento. ma che è un'altra persona quindi la gente non è capace così ma non è più così una volta in questo in questa una volta in questo un'altra e poi più di video parecchio pericchio 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 pericchio